Facciamo i biscotti all'anice. Abbiamo bisogno di farina grano tenero, zucchero, uova, olio di semi, sale, lievito per dolci e i nostri freschi semi di anice che io ho già tritato in mortaio. Mettiamo farina, lievito, zucchero, uova, sale ed olio in ciotola e cominciamo a mescolare. Aggiungiamo i semi di anice e torniamo a mescolare. Mmm che profumo! A questo punto ricopriamo con uno strofinaccio di cotone. Lasciamo riposare l'impasto in un luogo fresco, anche in frigorifero, per circa un'ora. Trascorsa l'ora, ecco come si presenta l'impasto. Mescoliamo nuovamente l'impasto, mettiamo in teglia, così da formare due filoncini ed infarniamo a 180 gradi per 20 minuti. Raggiunto questo colorito, sforniamo, mettiamo un panno di cotone sopra e lasciamo lievemente raffreddare. Appena tiepido, cominciamo a tagliare a fettine finissime con un buon coltello. Adagiamo le fette in una grattiglia ed inforniamo, sempre a 180 gradi per circa 7-8 minuti. Raggiunto questo colorito, sforniamo. Mettiamo in un contenitore e lasciate raffreddare. I nostri biscotti all'anice sono pronti per essere gustati.